Atto finale, big match, la finalissima, da un lato mercogliere salt, dall'altro lato Erminio Mania. Il dribbling ubriaca gli avversari e li salta come birilli, ma deve mangiare ancora pane e cipolla per emulare con tanto padre. Con il numero 10, Rambo Mattia Spiga! Grande! Qua con Briccola manda in fallimento lo zio Arturo, che si ritrova la cassa di Barocca sempre vuota. Amici miei, ecco voi Lupen! Con il numero 22. Giustamente Spiga, il nostro Rambo, già è partita proprio ora e quindi attenzione, proprio a Spiga sulla corsia, giro per Cicciottello. Vedremo se partiranno subito a fionda oppure realmente si guarderanno intorno. Sul punto di battuto manca a dirlo, Cicciottello! Pronto a sfondare la porta, Barriere con Evangelista! Vogliamo la rete sfondata! A Barriere Corallini hanno messo. Eccolo qua Cucciniello! Amici miei, la mette nell'angolino! Giro per il Golden, tracchegginario tutto giusto, eccolo qua Cucciniello! La sfonda, uno pari! Ringulare in difesa per poi ripartire, attenzione a Golden, Santa Maria! La mette nel sacco! E' proprio lui! Pog, boom! Cucciniello, lancino per il pitone, amici! Il maestro la mette nel sacco! Soprattutto il risultato assicuro, ma può ripartire, Gara da Fiore, c'ha sulla corsia il pitone! Eccolo qui! Col vizietto del gol! 4-1! Arte spica! Fa la barba al palo! Realmente aveva provato una cosa impossibile contro le leggi della natura, ma per poco non ci riesce! E infatti non c'è riuscita contro le leggi della natura! E allora i coccioloni fanno una cosa buona anche loro! Termina qui la gara, ricordiamolo, 4-1, non muovetevi dalle poltrone, ci saranno le premiazioni! Corrai uno con Sport Mediaset, con Marco Incino! Ma che dico, un inchino! Spara a Gogo!